Oggi, mercoledì, 22 maggio 2019, stiamo vedendo mamma di fistione turco, la femmina, con i suoi pulcini. Stanno nuotando controcorrente nel torrente che sfocia nel lago di Benaco, qua nei dentoni di Riva Ragarda, Trentino, e mangiano insetti portati dalla corrente sul velo dell'acqua, e non amo anche a del lago. Ed ecco la mamma con i suoi pulcini. Uno è sceso sulla riva. Queste immagini sono alla fine del video. Mamma fistione turco, con i suoi pulcini, al lago Benaco. Sonia d'intorno di Riva Ragarda.